eccomi qua ragazzi sono arrivato al volo l'arbitro appena fischiato dopo questi dieci minuti di recupero ma come si fa ma come si fa ma come si fa ho chiamato questo video perché non mi veniva un altro titolo più intelligente ragazzi allora esordio esordio negativo per quanto riguarda la juventus in europa league in questi playoff negativo ovviamente per il risultato ovviamente per quello che abbiamo visto in campo partiamo da partiamo dall'inizio cerchiamo di dare un po un senso logico a quello che ho visto questa sera che abbiamo visto questa sera l'azione più bella della partita è stato sicuramente è stata sicuramente quella del gol della juve bellissimo il traversone di di maria che trova chiesa bello l'assist di testa tapin vincente di blaovic poi per quanto riguarda la juventus ha fatto un discreto primo tempo ero abbastanza soddisfatto soprattutto dell'atteggiamento perché in realtà non abbiamo fatto vedere grande qualità non abbiamo più tirato in porta e però al primo tempo insomma la juve c'era nel secondo tempo come troppo spesso è accaduto la juve non è scesa in campo abbiamo regalato 20 minuti buoni al nant il nant che squadra è a me ha dato l'impressione di essere una squadra molto fisica sicuramente da un punto di vista proprio fisico atletico intendo ci ha sovrastato uso questo termine un po esagerato ma è quello che ho visto cioè i nostri giocatori erano complessivamente la juve più forte del nant ma eravamo troppo leggeri troppo deboli soprattutto ragazzi abbiamo regalato totalmente la partita a centrocampo rabiot partita indecente secondo me ha fatto degli errori incredibili non ha dato nulla questa partita paredes è stato uno zombie e probabilmente locatelli è riuscito a fare pure peggio una volta entrato centrocampo bene o male brutto fagioli troppo leggero troppo inesperto per queste partite ma non mi è piaciuto insomma il centrocampo è stato secondo me il punto debole della juve questa sera e vlaovic eccoci qua un'altra cosa che probabilmente vi farà un po rimanere male bello il tridente chiesa di maria vlaovic bellissima la partita di chiesa bella la partita di di maria sono stati i play gli unici creatori di gioco da parte della juventus mentre per quanto riguarda vlaovic ragazzi male non è possibile che il numero 9 della juve in casa in coppa non tiri mai in porta l'unico tiro in porta è quello del tapin vincente sul primo gol ma non è affatto un gol sensazionale per quanto riguarda il resto male avessimo avuto un attaccante devastante un vlaovic in super forma sarebbe stata diversa questa questa partita insomma il nante ci pareggia con questo contropiede assurdo perché lì siamo riusciti a fare tutto il festival dell'orrore sbaglia di maria che in mezzo all'aria cerca di driblare tutti troppo spesso lo fa e ma anche chiesa si è un po' intestardito questa sera andavano di sfondamento spesso e insomma di maria perde il pallone fagioli al pallone tra i piedi e lo perde contropiede paredes già un monitor non interviene bremer e danilo alle vanno a farfalle e prendiamo il gol del pareggio poi succede quello che nel mondo del calcio succede molto raramente c'è una follia di pali chiesa un bellissimo tiro traversa riga palo tutti pensavamo fosse entrato ma non è così e poi pochi minuti dopo un'altra traversa della juve insomma una sfortuna nera ragazzi e poi arriviamo a quello che è l'episodio finale l'episodio finale che ci lascia basiti turbati incazzati che riempiremo i social di video di frame di lamentele ma non servirà a niente l'arbitro pessimo questa sera complessivamente insomma rigore netto per la juve colpo di testa di bremer e tocco di mano del difensore era rigore tutto il mondo avrebbe detto rigore invece il var e l'arbitro vedono e fischiano il fallo in attacco quindi la spinta di bremer sul difensore tanto che lo sbilancia gli fa toccare la palla con la mano non è ovviamente il mio pensiero e non è quello penso di tutti i tifosi juventini che erano allo stadio che hanno ben visto questa azione ragazzi è stato sì insomma avere un rigore al 95esimo poi poi bisognava tirarlo e quindi non diamo per scontato di aver di poter vincere 2 a 1 ovviamente però è questa cosa sto spezzando le varie lance a favore del nante in questa cosa quindi prima di tutto bisognava segnarlo seconda cosa vincere 2 a 1 non avrebbe cancellato nella mia testa comunque questa voragine di 20 25 minuti di vuoto totale e poca qualità in generale mi aspettavo una juventus diversa una juventus molto più affamata molto più qualitativa in tutta la partita però c'è da dire che questo episodio rimane e segna la partita di stasera c'era un rigore per la juve la juve meritava di tirare questo rigore nel 95esimo e poi giocarsi il ritorno perché a questo punto c'è il ritorno uno a uno insomma non è un bel risultato in casa e al ritorno i francesi meneranno come fabbri non so se allegri soprattutto imparerà dai suoi errori questa sera l'unico cambio che ha veramente svoltato la partita è stato costic costic è stato decisamente il migliore della juve insieme a chiesa secondo me per quanto riguarda gli altri zombie parlo di quadrado quadrado è riuscito a fare peggio di desciglio locatelli molto male molto 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 male entrato male sulle poverino non ho capito questo cambio sulle per di maria abbiamo diviso per 10 la qualità se non per 20 la qualità che in quel momento avevamo in campo capisco che di maria ha la sua età capisco che deve riposarsi ma era un momento nevralgico della partita una partita che la juve non stava vincendo quindi entra sulle poverino quello che ha fatto è sbagliare i due palloni farseli perderli ok poco altro ragazzi ho visto poco 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 altro complessivamente penso di avervi detto tutto la mia analisi si ferma qui c'è poco da dire sono abbastanza deluso dalla juve come prestazione generale perché mi aspettavo di meglio sono ovviamente molto amareggiato per la sfortuna nera che abbiamo avuto vedi pali e traverse e sono incazzato per questo arbitraggio che mi ha deluso non voglio dimenticarmi di un altro episodio poi vi saluto che non ho visto perché sky non ha fatto rivedere più nessun tipo di replay il l'ipotetico fallo da rigore per la juve che da da cui poi scaturisce il contropiede del nant c'è una spinta e i nostri giocatori credo chiesa cade per terra e chiedono il calcio di rigore questa nazione che non hanno rivisto non hanno fatto rivedere e anche questa secondo me meriterebbe un'analisi approfondita insomma ragazzi ditemi la vostra siamo tutti abbastanza delusi insomma è un video un po così è un misto un misto di emozioni l'avete capito amarezza tristezza non esageriamo però insomma amarezza sì e delusione per questo mondo del calcio per questo arbitraggio il var la tecnologia che però alla fine lo vedete ragazzi non so se siete d'accordo con me non aiuta veramente a dipanare questa nebbia no a dipanare questi queste situazioni caotiche dove alla fine è sempre un uomo che deve decidere siamo strapieni ormai di tecnologia ma non sta aiutando e allora magari ridateci il calcio come era nel 74 dove i calciatori si spaccavano le caviglie nessuno vedeva non c'erano manco le pay tv e alla fine eravamo comunque tutti erano perché io nel 74 non c'ero ho inventato un anno a caso comunque tutta l'italia tifava e seguiva il calcio non lo so forse sono troppo nostalgico io soprattutto ultimamente ma tant'è tant'è questa cosa non mi piace per niente ciao ragazzi ci vediamo la prossima partita e sempre forza juve